salve a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con le interviste polemiche abbiamo oggi qui con noi in studio il professore Ivan Dilui, noto medico omeopata, che è oggi qui per parlarci di omeopatia. Ricordiamo a chi ci ascolta e non lo sapesse che l'omeopatia è quella pratica che prevede che un principio attivo sia tanto più efficace quanto più è diluito, ma lasciamo parlare il nostro ospite qui in studio e chiediamo direttamente a lui come funziona l'omeopatia. Il mondo scientifico però è abbastanza concorda nel definire l'omeopatia come una pseudoscienza o addirittura fuffa e questo perché nessun rimedio omeopatico ha mai superato trial clinici o nessuna prova rigorosa tramite il metodo scientifico. Lei come risponde a queste obiezioni? Molto interessante. Un'altra cosa le volevo chiedere. Ad oggi nessun rimedio omeopatico è stato consigliato per la cura di nessun tipo di patologia conosciuta. Lei non è di questo avviso, quindi per cosa consiglierebbe l'omeopatia? Glielo chiedo proprio sulla base della sua esperienza professionale. Capisco, un'informazione che sicuramente chi ci sta ascoltando e vedendo troverà molto interessante. Un'ultima cosa, lei non è chiaramente solo un medico ma si occupa anche di ricerca e quando l'abbiamo contattata ci ha detto che aveva da poco terminato la sperimentazione su un nuovo rimedio. Ce ne vuole parlare? Assolutamente e la ringrazio per avermi posto questa domanda perché abbiamo effettivamente da poco terminato la sperimentazione su un nuovo composto che è anche un motivo d'orgoglio per noi perché non eravamo mai riusciti a superare le 300 diluizioni, non eravamo mai riusciti a diluire i nostri composti più di 300 volte. Stavolta invece grazie ad un enorme sforzo scientifico e mentale dei nostri ricercatori siamo riusciti a diluirlo ben altre 10 volte in più aumentando quindi probabilmente di tantissimo l'efficacia di questo composto. A tal proposito volevo segnalare a chi ci sta seguendo da casa che questo nuovo composto sarà presto disponibile nelle migliori farmacie sotto il nome di Ospiloquatrinum oppure potete comprarlo direttamente dal nostro sito accedendo ad un piano di abbonamento annuale che vi darà inoltre il diritto di sconto del 2% su base annua. Quindi andatelo a vedere anche perché grazie alle sue 10 diluizioni in più promette di essere una vera rivoluzione nel mondo dell'omeopatia. Davvero molto interessante e sono sicuro che anche chi ci sta seguendo da casa è dello stesso avviso. Purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi è terminato non ci resta quindi che ringraziare il professor Ivan di lui per il tempo concessoci e ringraziare voi che avete assistito a questa intervista fino a questo momento. Se vi è piaciuta lasciate un like, condividetela e iscrivetevi al canale per le prossime interviste. Ci vediamo alla prossima intervista polemica.